Walter Scottrese la melodia, la frase melodica fa così respiro poi lo ripete e si differenzia da quella prima perché fa la chiusura lo rifaccio respiro poi la ripete ma chiude in modo diverso adesso provo a farlo con l'accompagnamento 5-8-4 di nuovo 5-8-4 con l'accompagnamento 5-8-4 5-8-4 5-8-4 5-8-4 5-8-4